Non un comizio, non una convention, ma una passeggiata nei luoghi più popolari. Stamattina Luigi Di Maio e il candidato pentastellato alla presidenza della regione Sicilia Giancarlo Cancelleri hanno fatto nuovamente tappa a sciacca per incontrare i cittadini. Da prima a San Michele, durante lo svolgimento del mercato settimanale rionale, successivamente nella zona del porto. Strette di mano, veloci interlocuzioni con gli acquirenti e i titolari delle bancarelle e i pescatori. Supporto e pentastellati a seguito ovviamente, che hanno continuato l'opera di volantinaggio. Ad accompagnare due rappresentanti è anche Matteo Mangiacavallo, il deputato scente ricandidato nel collegio grigentino per il movimento. Anche l'altro candidato alla presidenza, Fabrizio Micari, ha fatto tappa a sciacca stasera invece per presenziare alla convention organizzata da Michele Catanzaro, candidato nel collegio di Agrigento per il Partito Democratico e che si è svolta all'ex convento di San Francesco. Catanzaro ci rimprova un'altra volta. Nelle precedenti elezioni sforò l'elezione per una manciata di voti. Micari è il rettore dell'Università di Palermo, che Renzi e Alfano vogliono governatore. Stasera da approdire l'ingegnere palermitano c'era gran parte del PD locale. 切itoli e suoi. Grazie.